Siamo sulla strada provinciale 231 che collega Modugno-Bitonto, l'altezza del chilometro 2,5, dove ieri sera intorno alle 23 è avvenuto lo scontro tra due auto, una Opel Corsa e una Renault Scenic 4, le vittime tutte giovanissime, due i feriti. Si chiamava Lucrezia Natale, aveva 16 anni, la più giovane delle quattro vittime dell'incidente. Insieme a lei sono morti nello scontro sulla strada provinciale 231 poco prima dell'ingresso di Bitonto, Tommaso Ricci di 23 anni, Alessandro Viesti di 24, Floriana Fallacara di 20. I giovani a bordo di una Opel Corsa erano tutti di Bitonto, una delle due ragazze nell'impatto è stata sbalzata fuori dall'auto finendo nella vicina campagna a bordo strada. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia stradale e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno impiegato 40 minuti per estrarre dalle lamiere il corpo senza vita di uno dei due ragazzi vittima dell'incidente che sedeva sul lato passeggero dell'Opel Corsa. Gli altri due ragazzi, coinvolti nel frontale a bordo di una Renault Scenic, sono due fidanzati, anche loro di Bitonto. Si tratta di una ragazza di 19 anni e di un ragazzo di due anni più grande di lei. La 19enne si trova nell'ospedale di Venere di Bari. È stata sottoposta a intervento chirurgico nella notte per le fratture riportate alla gamba e al braccio destro ed è ora nel reparto di rianimazione. In rianimazione è anche il fidanzato ricoverato al policlinico di Bari. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente frontale sarebbe avvenuto dopo un contemporaneo tentativo di sorpasso ad alta velocità sulle rispettive carreggiate. Sulla dinamica dello scontro prosegue il lavoro della polizia stradale che nella notte ha completato i rilievi. Il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali.